Ciao a tutti, io sono Polly e benvenuti in questo nuovo video. Certo, un mese fa è uscito il nuovo trailer dei Transformers. Transformers 5, l'ultimo cavaliere. Ah, aspettavo così tanto, tanto che uscisse il trailer. Ma che diavoliera quella roba? Parto non averci capito molto, a parte i nostri amici robotoni contro gli umani. Ma va bene, e che Ottimus sta cercando di uccidere Bubble Bee. Spero che non muoia veramente, dai, povero Bubble Bee. Già prima l'ha fatto molto, adesso questo, cavolo, poveraccio. Il trailer era molto confuso, non si capiva bene, metteva più dubbi che risposte. Vabbè, un trailer serve per incedivare la gente ad andare a vedere il film, però... non è che mi sia piaciuto moltissimo. Anche se sono una fan della saga, ma... per favore, togliete quel trailer, fate un altro. Perché era veramente orribile. Vabbè, spero poi di riuscire ad andare a vedere questo amabile film al cinema. Senza vomitare in sala. Vabbè, detto questo, vi saluto e ci vediamo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti!